Buona visione! Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. Un'unica parola è stupire. Ta-da! Su RTV38, ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e ben ritrovati. E con questo primissimo venerdì della stagione chiediamo anche questa settimana con una puntata davvero ricchissima, tutta da scoprire. Adesso vediamo l'esibizione di Giuseppe Andrea con la sua chizomba! Vai! Buonasera a tutti! Ciao! Grazie a tutti 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 Per essere venuti qua a trovarci Per la prima puntata Un'ottima inaugurazione Grazie ancora Ci vedremo presto Ciao amore Un bacio Detto questo Alle 19 con Tadà in cucina Ciao 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 a tutti 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 Ciao a tutti